Quando sento l'ex sindaco Melucci, il quale dice abbiamo seminato la rinascita, io mi domando se sono io a non vivere a Taranto o è lui a non vivere a Taranto. Poi confrontandomi con tanti cittadini i quali lamentano il degrado assoluto in cui versa la nostra città, ho chiare le idee, è Melucci che non vive a Taranto, è Melucci che è rimasto rinchiuso all'interno di Palazzo di Città e ha perso il contatto con la realtà circostante. Ci troviamo qui nello specifico in via Dante, quasi ad angolo con via Maturi e vedete in che condizioni versa il marciapiede, è qualcosa di osceno. Sono stati fatti dei lavori, suppongo, da parte di Acquedotto Pugliese mesi e mesi fa e non ci si è degnati di ripavimentare il marciapiede, neanche l'asfalto. Così è stato gettato del brecciolino, delle pietre e le pietre giacciono da mesi e mesi. Ora la domanda che io mi pongo è la seguente, un amministratore, un sindaco quando vede una situazione del genere non interviene, non si rivolge ad Acquedotto Pugliese e tira le orecchie fino a staccargliele ad Acquedotto Pugliese o non tira le orecchie alle ditte che hanno fatto schifo, davvero schifo in questo modo? Si può lasciare la città così? Si può lasciare? È normale che una persona che deve camminare, soprattutto penso ad un anziano, ad una mamma con il carrozzino del bambino, debba imbattersi in questo scempio. Guardate, ecco ci possiamo proprio divertire, ci sono le pietre, guardate le pietoline, guardate, guardate, questa è la rinascita che il signor Melucci dice di aver fatto. E' solo una vergogna, è stato il sindaco del nulla, più bugiardo di lui politicamente, non ne ho mai trovato in tutta la storia, mai, perché parlare di aver riqualificato Taranto e chiudere volutamente gli occhi su questa situazione, senza intervenire, senza rivolgersi alle ditte, senza far rispettare quello che è il nostro territorio, il nostro patrimonio di strade e di marciapiedi. Nulla, da mesi e mesi questa è la situazione. E dico mesi e mesi, già quando il sindaco Melucci era sindaco, quindi non mi riferisco soltanto alla fase successiva in cui è decaduto e quindi le responsabilità pendono in capo al commissario, ma anche prima, quando era primo cittadino. Nulla, è una vergogna. Questo penso sia il caso più schifoso di tutta Taranto, che dimostra come Taranto da Melucci non sia mai di fatto veramente stata amministrata. E insieme a Melucci, è bene sottolinearlo, vi è la responsabilità del signor Walter Musillo, la responsabilità politica, perché il signor Walter Musillo ha amministrato con i suoi uomini di fiducia all'interno di questa maggioranza, avendo uomini nella giunta e avendo uomini nelle società partecipate. Dunque il duo Musillo-Melucci è fallimentare. Ora si ripropongono alla città nel rispettivo ruolo di candidato sindaco del centro-sinistra Melucci e candidato sindaco del centro-destra Musillo, ma evidentemente dimenticano questo scempio. Peccato per loro che i cittadini si ricorderanno e si ricorderanno molto amaramente, perché si va dal cittadino a chiedere il voto, si va dal cittadino a chiedere quando c'è da pagare le tasse, ci si rivolge al cittadino. Io personalmente ho svolto 21 anni di attività giornalistica sotto gli occhi di tutti, ho sfidato i poteri forti, dopo mi sono stancato. Vedete, se dovessi fare da giornalista di nuovo questa cosa mi stancherei, perché dovrei ripetere sempre le stesse cose. A questo punto converrebbe salvare il video e dopo un paio di mesi mandarlo di nuovo in onda, non cambierebbe nulla. Allora ho deciso di candidarmi sindaco trasversalmente ai partiti del centro-destra nel centro-sinistra del Movimento 5 Stelle. Taranto senza Ilva, un movimento che vuole davvero rivoltare Taranto come un calzino. Per Taranto ho sempre lottato, non è il mio slogan, non è solo il mio slogan, scusate, ma è la mia storia. Da 21 anni a questa parte le battaglie per l'ambiente, ma anche per la vivibilità urbana. Per questo mi sento di chiedere la vostra fiducia.